Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono onda d'urto e quello che vi sto portando quest'oggi è una clip, una videoclip di qualche visione, di qualche partita che ho fatto dopo veramente tantissimo tempo perché io non gioco a Black Ops 2 dai tempi che facevo il video dove registravo lo schermo, ci ho messo tantissimo per capire come fare a portare un video diciamo una grafica decente su riso da ps3, finalmente ho capito e sicuramente farò fatica a portarli belli però col tempo magari non si può migliare ragazzi, questo è un video velocissimo per dirvi comunque di lasciare un like se volete Black Ops 2 sul canale così e niente, un saluto da onda d'urto e noi ci vediamo con un prossimo video e ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.